Ciao Franca, ciao amore Graziana, visto mi sono ricordata, ma no no non so splendida, magari due o tre anni fa si andava a ballare, ma ci fai sempre a ballare, mi fa male l'altro ginocchio ora. Ascolta, io non posso dire quanti anni hai, perché non ci crederebbe nessuno Franca. No, ma ho piacere nemmeno di un dirlo io, ecco. Posso solo dire una cosa, che sei una signora molto carina, molto affascinante e che hai finalmente una bocca splendida. Sì, questo me l'hanno detto, guarda Franca come l'hanno rifatta, dice la bocca, i denti, come nel sorridere, come sta bene. Perché dice non te le metti? Ah no, io sono già vecchia, dice questa, però lei è tutto il giorno a lamentarsi dei denti. E io non mi lamento proprio per niente, perché ci sto bene, ci sto bene e mi piacciono, non so mai. Facciamo un piccolo riassunto. Molte persone ad una certa età dicono, ma beh io ad una certa età mi lascio i denti come vanno. In realtà hanno una qualità di vita bassissima, appunto come la tua amica, si lamentano, masticano male e non sorridono più. Certo. Tu hai fatto una scelta intelligente, bocca sana, bocca fissa, grandi sorrisi. Raccontami questa cosa, hai sentito male? Hai sofferto? No, 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 niente. Ma il dottor Cesare l'hai conosciuto? No, sì, mi ha fatto parlare, ma come facevo? Parlare con le mani in bocca. E non potevo rispondere, dicono che bisogna rispondere quando sono libera alla bocca. E allora lui aveva voglia di scherzare. Hai dovuto togliere il sotto, hai fatto i quattro impianti e hai messo i denti fissi. Sì, sì. Sopra hai fatto una nuova dentura. Sì. Che cosa mangi più volentieri? Ma è pasta asciutta, il giorno la pasta asciutta, poi i carni mangio poco, non è che mangio poco. Arrosto, sì, mi piace questa bella saporita. No, è mastico piano piano perché bisogna stare attenti un pochino a vedere come... Perché io ho abituato anche a mangiare le noccioline, tutte quelle lì, penso tanto bene non mi fanno i denti perché... Quindi vuoi mantenerti un buon equilibrio, però puoi mangiare di tutto. Sì, 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 di tutto posso mangiare. E prima di fare questo lavoro com'è? Raccontami dai. Tremenda, tremenda, tremenda perché non ci stavo con i denti, mi sentivo che la bocca è vuota, vuota. Ma quanto sono stata male, sono stata male tanto davvero. Male nel senso, no, come dolore, ma fastidio in bocca quando mettevo la roba secondo che non si schiacciava tanto bene. E a parlare con le persone? Ah, male, no, no, non parlavo. E forse mi sto abituata a parlare meno ora perché... Devi ricominciare, perché è venuto un bel sorriso. È venuto un bel sorriso adesso, devi parlare, devi sorridere, devi comunicare ancora. Senti, sei quindi soddisfatta? Sì, 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 davvero. Bisogna ad ogni età avere una bella bocca sana? Che io, oddio, se d'altra parte sono, assomiglio mamma e sono anziana, ma mi piace a me stare per bene quando, anche se siamo anziani, ma tenersi sempre, mantenere un pochino, penso, non è male, eh, così. È benissimo, hai negli orecchini splendidi. Sì, c'è la collanina ancora, ma qui non ci stava bene. E allora? Non l'hai messa. Non l'ha messa. Hai un sorriso straordinario. Senti, tu hai un marito, hai nipotini? No, sono vedova. Hai nipotini? Ah, c'era un bello uno qui che l'ho portato. C'è un bel nipote. E che ti ha detto? Hai una figlia? Ieri l'altro è venuto lui, l'hanno rivisto, dice. E che ti dice? Cara nonna, sei bella? Sì, e dice, no, nonna, vedi mamma, lei ci tiene, perché la mia figlia, lei non è che ci tiene tanto. La tua figlia? La mia figlia. Ci tiene più tempo? Sì, veramente. E' piacevole averti conosciuto, cara Franca. Ti auguriamo tanti anni felici con la tua famiglia. Grazie, grazie. Senti, ce lo fai un ultimo sorriso per salutare gli amici? Senti un po'. Non so sorridere io. No, mentre parli, guarda, sei sorridente. Grazie Franca ancora. Prego, tesoro, prego.